Anche Giorgio Migone, presidente del Panatron Genova Levante, si mette in gioco e ti mette in gioco da una vita, caro Giorgio, soprattutto per sostenere tante realtà, in particolare ultimamente la BIC Genova, società di basket in carrozzina ed ecco che la tua partecipazione con tutti gli amici del Panatron all'iniziativa di alleanza di sicurazioni sarà dedicata proprio alla BIC, sperando di regalargli materiali sportivi molto utili, la certezza è che voi insieme agli amici del BIC avete già ripreso il progetto Un'ora per i disabili andando a incontrare i ragazzi nelle scuole. Esatto, siamo già andati in una dozzina di scuole e ne abbiamo un programma, abbiamo un programma circa una cinquantina, perciò non è uno scherzo, è veramente una fatica, che è qualche cosa che dovremmo fare e che la faremo con molto, ma molto piacere. Incontri importanti perché nelle scuole Giorgio, insieme ai tuoi soci del Panatron, insieme ai ragazzi del BIC, spesso John Amasio, insomma che è straordinario relatore, riuscite a spiegare ai ragazzi perché è bene fare molta attenzione quando si va con il motorino, perché è bene fare molta attenzione insomma a non commettere certi errori. Certo, noi proiettiamo un filmato sulle Paralimpiadi per dimostrare ai ragazzi che anche chi ha avuto dei problemi, delle invalidità oppure che è nato con queste condizioni può fare lo sport perché abbiamo visto che lo sport è basilare e fa benissimo sia per il fisico che per la sicuramente. Ecco, poi noi li portiamo a un palestra, li facciamo vedere, li facciamo provare a giocare a basket in carrozzina, li facciamo provare a fare un percorso con un bastoncino come non vedenti e un gioco, li facciamo fare anche un gioco che si chiama torba con un palone sonoro. Ecco, poi le cose più importanti sono che gli insegniamo come si mette il casco, l'importanza del casco, che il casco deve essere protettivo al 100%, personale e deve essere allacciato non troppo stretto né troppo largo ma mettendo due dita per così. E questo è veramente importante, gli insegniamo che la cintura di sicurezza è non importante ma è qualcosa che salva la vita e principalmente chiediamo a chi di voi si mette la cintura di sicurezza quando è seduto dietro? Purtroppo la maggior parte dice che non la mette, invece la cintura di sicurezza dietro è intanto obbligatoria e secondo salva la vita perché chi è seduto in special modo, se dietro sono i tre, quello che è al centro è proiettato direttamente contro i vetri della macchina con i danni che si può facilmente immaginare. I ragazzi lo concepiscono, riescono a comprenderlo, tanto è vero che ci sono dei riscontri da parte degli insegnanti, ad esempio mi ha telefonato un insegnante dicendomi che il papà di un ragazzo ha detto che alle 4 di notte è stato svegliato da suo figlio dicendoli papà vienci a prendere perché siamo in discoteca, abbiamo bevuto, è meglio che ci viene a prendere, dicendoli questo ce l'hanno detto a scuola quelli del palatro, perciò è stata una cosa molto bella, una ragazzina che in macchina con suo papà tornavano da una festa e papà aveva bevuto un po' e ha detto papà guarda hai bevuto, mi fa scendere, insomma queste sono tutte le cose che riusciamo a fare, poi ne faremo mille perché abbiamo un concorso scolastico, insomma c'è mille cose.